Musica Musica Martedì 5 febbraio, buongiorno, bene ritrovate l'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Quest'oggi in evidenza parleremo di quota 100 perché i quotidiani hanno provato a capire quante sono. Poi le persone in Umbria che se ne potrebbero andare, tantissimi gli operatori della scuola. E poi parleremo di cronaca perché sono state scoperte 70 tonnellate di Eternit nel territorio di Marsciano. Una vera e propria maxi di scarica. Ancora buche da Perugia in primo piano con un piano vero e proprio per la loro sistemazione e difendersi anche come istituzione pubblica. Il comune dalle possibili denunce. Questo in evidenza. Andiamo alle prime pagine dei quotidiani. Il Corriere titola quota 100, fuga dalla scuola. Aperti ieri i termini, i sindacati di categoria prevedono circa 2.500 richieste di pensionamento. A Narni la corsa all'Anello avrà il suo campo di gara e poi dal territorio di Perugia dopo la gravidanza il mobbing. Mamme le più colpite lo dice il vicepresidente di Adoc. Garofalo aumentano i casi di donne che vengono demanzionate dopo aver avuto dei bambini. E ancora a Gualdo Tadino la storia di un imprenditore. Abbiamo avuto ospite anche nell'ultima puntata di Link. Matteo Minelli, la sua birra infatti sponsorizzerà il moto mondiale. Poi a Foligno arrivano in centro otto barchi elettronici. La Nazione, strade da incubo. Siamo a Perugia, tante le buche. La foto riporta il momento in cui alcune di queste vengono tappate. Si corre ai ripari. E a Marciano scoperte 70 tonnellate di Eternit. Una maxi di scarica abusiva a mille metri quadrati. Ricordate certamente la vicenda che quest'estate vide protagonista una donna accusata di aver abbandonato il figlioletto appena partorito in un parcheggio di un supermercato. Ebbene il padre, quindi il compagno della signora, chiede un milione di euro di risarcimento danni. E poi torna dal tribunale dopo l'interrogatorio e scippa una donna. Un vero e proprio ladro seriale per lui irresistibile, proprio il vizio dello scippo. E poi guardate questa fotografia. Secondo National Geographic è la foto più bella che è stata scattata in Umbria. L'ha scattata un ternano, rappresenta un uccellino che è stato fotografato nel momento in cui era avvolto da una vera e propria tormenta di neve. Andiamo al messaggero. Videogiochi, dipendenza, sin da piccoli ormai dispositivi in uso a bambini già in età prescolare. Lo specialista dice il problema non è capire se certe attività sono nocive, ma sicuramente creano meccanismi diabolici, vere e proprie dipendenze. L'emergenza va in buca, anche il messaggero titola sulla vicenda delle strade danneggiate, soprattutto dopo la nevicata e quindi il periodo in cui è stato richiesto l'utilizzo di sale per sciogliere le strade. Ora le buche sono tante, stretta sulle asfaltature. Sfregiato il ricordo del poliziotto mister, siamo a Perugia, l'assalto dei ladri non risparmia la donazione della famiglia Gnagnetti. Lo leggiamo, sono entrati nella sede del Castel del Piano e non hanno risparmiato un oggetto prezioso, un oggetto che ricordava il poliziotto mister a livello affettivo prima ancora che economico. E' la storia, l'ennesima storia di un furto che in questo caso però ha anche sfregiato il ricordo di questo signore, Roberto Gnagnetti, poliziotto allenatore proprio del Castel del Piano, scomparso improvvisamente a fine maggio. Il suo poster, la sua immagine si trovava proprio nei locali che sono stati assaliti dai ladri. Foligno ride al campo da rugby contro le auto in sosta e a Marsciano, l'abbiamo visto, 70 tonnellate di Eternit sono state nascoste sotto terra. Ebbene, questo per le prime pagine dei quotidiani, l'home page del nostro sito internet www.trgmedia.it ci ricorda che questa sera alle ore 21 su TRG e quindi sulla nostra emittente canale 11 torna AgriForum. Il focus sarà sul nocciolo all'indomani di un convegno presso la sede di Confindustria Umbria che ha illustrato il bando messo in campo dalla regione dell'Umbria con 2 milioni e 600 mila euro per la costruzione di una filiera del nocciolo. Andiamo nelle pagine dei quotidiani, andiamo ad analizzare le notizie di interesse regionale. Partiamo dal Corriere dell'Umbria, quota 100, la grande fuga dalla scuola. Da ieri è possibile presentare domande per andare in pensione con la nuova legge. Tra insegnanti, impiegati ed ausiliari, i sindacati stimano 2.500 potenziali uscite. Perché se ne vanno tutti questi insegnanti dalla scuola? Lo racconta in questo articolo Erika Cassetta della CISL Scuola. Non c'è più quel riconoscimento del ruolo che c'era una volta. L'insegnante che sia maestro di scuola primaria o docente di secondaria non ha più quel rispetto di un tempo né da parte di alunni né da parte dei genitori. Gli insegnanti sono stuposti ad uno stress tale che non appena si presenta l'opportunità scappano da quel mondo a cui hanno dedicato una vita. Questa l'analisi della situazione. Che cosa succede per i dipendenti privati? I tempi sono diversi. Se si presenta la richiesta di pensionamento oggi si potrà smettere di lavorare il primo luglio con l'erogazione della rendita nei tre mesi successivi. E poi una inchiesta parla di mobbing sulle donne. In particolare le donne che hanno partorito e quindi hanno soffruito di un periodo di maternità, secondo questo studio quando tornano al lavoro sono spessissimo oggetto di mobbing. Il fenomeno è sempre più diffuso. Secondo Garofalo di Adoc spesso vengono punite al rientro della maternità. depotenziate nelle loro facoltà e declassate molte volte si legge a fare fotocopie addirittura per quelle che prima magari erano invece delle mansioni decisamente più importanti. Ci spostiamo a Terni. In realtà parliamo di elezioni provinciali. Il pareggio fa vincere Lattanzi. Affermazione del centrodestra nel capoluogo sui territori più voti al centrosinistra. Questa è l'analisi del voto per i consiglieri provinciali. Finisce 5 a 5 l'elezione dei consiglieri di Palazzo Bazzani dove gli equilibri li sposta ora il presidente. Quindi un vero e proprio pareggio. Nella provincia di Perugia abbiamo visto vince la lista di centrosinistra ma perde seggi a favore del centrodestra. Intanto potrebbe essere lo storico sindaco di Cascia Gino Emili il vicepresidente del presidente della provincia Luciano Bacchetta. Fiamme gialle, potenziati reparti, arrivano nuovi ufficiali in Umbria. E poi sempre per le pagine di interesse regionale ci spostiamo sulla Nazione che dedica ben due pagine alla vicenda buche all'indomani del maltempo quando evidentemente la richiesta di sale per sciogliere ghiaccio è stata importante. Proprio quel sale presumibilmente ha causato più di una buca su strade che erano già di per sé stesse dissestate e allora ora scattano nel Perugino le emergenze. Nel comune di Perugia sono ben dieci le strade individuate come in situazione di dissesto. Rattoppi in campo, 200 perai, Anas, provincia e comune di Perugia al lavoro, inizia però a scarseggiare il bitume. E poi raccontiamo questa storia che arriva dal Perugino davvero terribile, sfregiata con un pezzo di vetro. Racconto shock di una diciannovenne che si era legata sentimentalmente con un tunisino con il quale poi ha avuto anche una bambina. La donna, la diciannovenne, ha raccontato di essere stata sfregiata con un pezzo di vetro dal compagno. era il 25-26 gennaio scorso. La donna aveva tra l'altro in braccio la bimbetta, una neonata. Alla fine è svenuta da lì ovviamente l'intervento dei sanitari e quant'altro. Ne è venuta fuori una storia terribile. Ha raccontato la signora, una ragazza diciannovenne, che più volte era stata oggetto di percosse da parte di questo compagno che si chiama Mohamed Hamdi, ha 26 anni, è clandestino, senza fissa dimora, di origine tunisina, papà della piccola. di essere stata, dicevamo, più volte oggetto di botte e maltrattamenti in casa. L'uomo attualmente è stato arrestato dopo sette giorni di fuga, è stato rintracciato presso la stazione Termini di Roma. La Guardia di Finanza, abbiamo visto, potenzia il suo organico in Umbria, a Foligno nasce un gruppo operativo e poi la cronaca che arriva da Marciano, 70 tonnellate di Eternit sono state tombate. è stata trovata una maxidiscarica abusiva scoperta dalla forestale, ci vorranno 100 mila euro per la bonifica del sito. E poi ancora per la cronaca, un nonno truffatore elegante, si comprava abiti costosi ma poi li pagava con assegni fasulli, ha 83 anni e ancora era ai domiciliari un uomo che era stato ascoltato in tribunale per un caso di scippo mentre tornava a casa, si è reso protagonista ancora una volta di scippo, stavolta è finito in cella. Ancora dalla nazione, parliamo di università, ingegneria, l'Ateneo sposa il Giappone, inaugurato un centro internazionale di ricerca insieme alla Tamura Corporation, ma appuntiamo la nostra attenzione su questa ricerca che viene fatta nell'Università di Perugia. Un gruppo dell'Università fa parte di un gruppo di studio per una terapia antitumorale all'avanguardia. È la terapia basata sui nanofilamenti, in particolare il lavoro fornisce dati utili per lo sviluppo di farmaci in grado di colpire esclusivamente le cellule di tumore, le cellule malate, riducendo quindi la necessità di ricorrere alla chemioterapia. E allora, complimenti. Parliamo di cultura perché ieri è stato presentato il Festival di Spello, il Festival del Cinema di Spello che inizia il prossimo 23 febbraio, è dedicato il Festival ad Ermanno Olmi, celebrato con un premio e una mostra di bozzetti inediti. E poi per gli appassionati, oggi pomeriggio alle ore 17 al Quasar Village, arriva Fedez. Questo per le pagine di interesse regionale della nazione, andiamo al messaggero che quest'oggi appunta la sua attenzione sui giochi. elettronici, in particolare sulla dipendenza da videogiochi. Videogiochi verso la dipendenza già prima della scuola, lo dicono gli esperti nei giovanissimi predisposti. L'iperstipolazione visiva causata da Playstation e cellulare porta a disturbi di concentrazione. Cioè stare troppo sui giochini di fatto poi crea difficoltà, per esempio, nello studio e nella concentrazione. Ancora, rifiuti una bomba sulle bollette. Gest vuole i soldi per i costi della discarica chiusa, braccio di ferro per l'usufrutto di Pietra Melina. E poi la politica, ovviamente, dopo le elezioni provinciali, si comincia a pensare alle prossime elezioni amministrative. Centrodestra, la stretta sui sindaci in provincia, sfiorato il pareggio. C'è ovviamente fermento per le prossime elezioni amministrative. Ok per Zuccarini a Foligno, Fratelli d'Italia vuole Marciano, Guppio e Castiglione. Ancora sono invece indietro nella scelta delle candidature. Questo per le pagine di interesse regionale del messaggero. Ritorniamo al Corriere dell'Umbria, analizziamo i singoli territori, partendo in particolare da Perugia. Rifiuti 40 multe in un solo mese. 7 ausiliari di polizia ambientale sono al lavoro. Ma Giuseppe dice che non c'è nessuna caccia alle streghe, ma le esenzioni migliorano la raccolta differenziata. Lavori alla stazione di Sant'Anna, i pendolari vogliono tempi certi di riapertura. E poi le agenzie regionali di ente case popolari, AUR, AFOR e Umbria Digitale traslocano, andranno forse al polo di Monteluce. Andiamo a parlare di un processo che si sta svolgendo a Perugia. Andrangheta i testimoni vacillano. Non so se l'avete seguita nelle scorse puntate, chiamiamole così. Si tratta del cosiddetto processo quarto passo, quello che vede coinvolti dei soggetti di origine calabrese accusati di essere filiazioni dell'andrangheta. Il tutto è nato dalle testimonianze, che ora però in aula vacillano, del titolare di un autolavaggio di Ponte Felcino e del suo genero, un imprenditore edile, che riportarono di quando nel 2008 l'officina andò a fuoco e per evitare cose peggiori ai propri familiari, gli stessi pagarono qualcosa come 40 mila euro ai cosiddetti calabresi, coloro che ripetutamente li minacciavano. Ne venne fuori una inchiesta ovviamente della procura antimafia, il tutt'ora è finito in tribunale, ma gli stessi testimoni da allora ieri in tribunale hanno vacillato con una serie di non ricordo, ma per la procura si tratta evidentemente di infiltrazione mafiosa. Intanto un 42enne nigeriano spacciatore latitante finisce in manetta a Palermo e poi il prossimo primo giugno a Perugia si celebra il Perugia Pride, è stato annunciato dal presidente di Onfalos Bucaglioni che dice da Roma a New York, questo sarà l'anno dei grandi anniversari, l'associazione spera nel patrocinio da parte del comune di Perugia che dice è mancato negli ultimi anni. Incidenti per le buche, 5 in un pomeriggio, l'abbiamo già ampiamente visto a Perugia e poi Fontivegge spunta un cane antidroga nell'atrio della stazione. Il lago Trasimeno cresce di 7 centimetri, ovviamente le piogge di questi giorni sono state provvidenziali, mentre ad Assisi c'è il palio del cupolone in difficoltà, il comitato si dimette in blocco. A Marciano l'abbiamo visto esattamente, a Collazzone sono state sottorrate 70 tonnellate di Eternit, resti di vecchi forni di essiccamento del tabacco, la cui componente interna era di amianto. A Todi è ancora fermo l'ascensore, niente parcheggi in centro, anche ieri nuovo consulto con un esperto del settore. A Città di Castello è arrivato questo viaggiatore, si chiama Jean-Jacques Ciarasso, è di origine italiana, da Nizza a Tokyo sta andando con un ape ed è passato per Città di Castello. L'ente nazionale dei sordi ha festeggiato Francesco Di Sales e poi nasce un comitato pendolari, gli utenti altotiberini della ex FCU sempre più esasperati dai disservizi. Ad Umbertide la civica Umbertide partecipa, sfiducia, segretario e presidente. A Gubbio Santubaldari sono stati scelti i capo dieci, Filippo Faramelli per i mezzani, Lorenzo Marcelli per i piccoli, si aggiungono a Pietro Menichetti. E poi al Teatro Ronconi uno zio di Vania di Chekhov e ancora a Gualdo Tadino, focus quest'oggi sulla impresa di Matteo Minelli, imprenditore del settore delle energie rinnovabili e della birra. Ebbene, proprio la sua birra, Birraflea, sponsorizzerà il moto mondiale. In particolare il progetto sarà presentato il prossimo 15 febbraio. Il logo e il nome di Birraflea saranno lo sponsor ufficiale del team SIC 58 che parteciperà ai mondiali di Moto 1 e Moto 2. Ancora da Gualdo Tadino aumenta il consumo di farina di canapa, servono nuovi terreni per la coltivazione, è stato lanciato un bando alla ricerca di agricoltori disponibili a coltivare. E poi andiamo a Foligno, arrivano otto nuovi varchi elettronici, definito il progetto del comune, si entra nella fase esecutiva con la gara d'appalto prevista a marzo. Intanto alloggio a Colfiorito e a Nifo per le famiglie dei Rom, si analizza questa ipotesi e possibilità. E ancora a Foligno, che ha sempre a che fare con i furti, al parcheggio del cimitero di Fiamenga, tre auto scastinate nel giro di poche ore. E poi a Montefalco, lotta al bullismo tra i banchi di scuola, convegno alla Melanzio dell'Associazione nel nome del rispetto. Ancora al Corriere dell'Umbria, Spoleto, approvata la variante al PRG, stop al pagamento dell'Imu, tornano agricoli, un milione di metri quadrati di territorio. Ancora medicina, resta senza primario, siamo sempre a Spoleto, graduatorie pronte, ma della nomina del professionista chiamata a guidare il reparto ancora non c'è traccia. E poi a Terni, con l'area ex Camuzzi, l'unica certezza è il degrado, il ministero non risponde da anni, anche ad una richiesta di vincolo per gli edifici storici. E poi decreto sicurezza, Terni, altri due migranti sono stati espulsi dalla casa Caritas di San Martino, in base al decreto Salvini non ne avevano più requisiti, ma il Vescovo dice attenzione, nei prossimi giorni ben 36 potrebbero essere in bilico, cioè dovranno lasciare questa casa di accoglienza. Andiamo alla Nazione, le sue pagine locali, e allora in particolare si riparte dal territorio del Trasimeno, siamo a Castiglion del Lago, dove ci sono state le primarie, la vera battaglia inizia adesso, dice il candidato del PD, che fissa gli obiettivi. A Panicale il merletto si candida al riconoscimento UNESCO, ad Assisi palestra off limits per i disabili, Travicelli tuona sui lavori al polo scolastico San Benedetto. Ancora Assisi, ambulanza bloccata a causa dei pilomat, e allora c'è l'appello a rivedere proprio l'uso dei pilomat. E ancora dalla Nazione, andiamo a Gubbio, una nuova casa per le tavole eugubine, si sta riflettendo sulla possibilità di spostarle da Palazzo dei Consoli al nuovo museo di Via Luccarelli, museo degli Umbri. E poi a Gualdo Tadino il bando pubblico per la ricerca di terreni da coltivare a Canapa. E ancora Gubbio, cartolina del Pellegrino sulla Via di Francesco, presentata all'opera realizzata da Mattia Pierini. Sempre da Gualdo, accompagnamento sul posto di lavoro, sono 35 le persone che usufruiscono del SAL. A Città di Castello, Altotevere, pendolari di serie B, dopo il dossier di legambiente, insorgono gli utenti dei treni. E poi l'evento Ivan Cottini, inno alla vita dal palco degli Illuminati, il ballerino combatte contro una sindrome degenerativa ed ha portato la sua testimonianza. Ad Umbertide, la lista Umbertide partecipa, implode il movimento creato da Locchi alle prese con gravi tensioni interne. E poi a Monte Santa Maria Tiberina, Michelini è stata eletta in provincia e dunque ora si metterà al lavoro. Torniamo a Città di Castello, i giovani imparano a costruire la libertà, una iniziativa dell'Associazione promuove incontri alla palestra delle emozioni. E poi Umbertide lega al governo, ma la Noschea cresce, attacco alla giunta Carizia. A Foligno, comune, tasse e tariffe non aumentano, lo dice il Consiglio comunale. Il Consiglio infatti analizza il bilancio di previsione 2019. Carnevale dei ragazzi, sarà una maestosa tigre ad aprire la parata e poi appuntamento giovedì a Foligno con la presentazione del restauro degli affreschi della Cappella della Sacra Famiglia. E sempre dal territorio, qui siamo a Spoleto, fare verifiche nei cementifici. I Cinque Stelle chiedono controlli alla Procura. E poi, nuovo piano regolatore a Spoleta, approvata la variante. A Foligno, borse di studio, ecco come presentare la domanda. A Terni, neonato morto, il papà chiede un milione, via al processo, il giudice dispone la perizia psichiatrica per la mamma. Ancora per la cronaca, strattonata e rapinata nell'androne di casa, caccia ad un bandito. E' accaduto anche questo a Terni. Andiamo al messaggero per le sue pagine locali, in particolare dal territorio di Perugia. Caos, buche, stretta sul piano per bloccare l'emergenza. L'assessore Calabrese dice i lavori già eseguiti sono fatti bene, andiamo avanti. E poi fonti vegge, allarme, ritorni pericolosi. Residenti e vigilanza segnalano la rinnovata presenza di personaggi in passato messi in fuga o arrestati per spaccio. Finanza Task Force di Baschi Verdi per i controlli alla stazione. Poi, l'abbiamo letto in apertura di rassegna, ha sfregiato il ricordo di Gnagnetti, poliziotto mister dei giovani, da una banda di ladri che è entrata nella sede del Castel del Piano. Andiamo a Marsciano, con le sue 70 tonnellate di Eternit che sono state sotterrate. Lo abbiamo già ampiamente letto. Città di Castello chiede più segnaletica sulla E45. Assisi, la nuova palestra è inaccessibile ai disabili. Gubbi e Gualdo, pienone di studenti, i numeri delle iscrizioni alle scuole. A Gualdo Tadino, una cattedrale senza barriere architettoniche, con una rampa per l'accesso alla porta principale. Umbertide, caos in comune, la lista di Locchi si spacca. Andiamo a parlare di Foligno. 10 auto danneggiate durante il torneo di rugby. Il presidente Gubbini dice che servono soluzioni efficaci come le telecamere. L'assessore Angeli risponde dopo il bilancio Summit con le diverse realtà sportive. Poi Quintana, il Morlupo conferma, Lorenzo Pace e ancora il Carnevale di Santelaclio, ricorderà i grandi Franco De Santis e Paolo Severini. Andiamo a Spoleto, niente imu per i proprietari dei terreni declassati. Via Libera ieri alla variante al PRG spacchettata in sei stralci. E poi scuola di polizia, giuramento per 360 agenti, ma sul futuro restano ancora incertezze. Ci spostiamo a Foligno, scusate, ci spostiamo a Terni, sempre con il messaggero. Eccoci qua, SOS Ospedale, l'Università si dimentica del Santa Maria. L'Ateneo impiega a Perugia 110 medici, a Terni gli universitari sono appena 16. Palazzo Spada fa pressing sul Rettore. Un vero e proprio colpo servirebbe sul futuro della sanità. Insomma, serve un intervento chiaro e evidente che dica che l'Università tiene al Santa Maria di Terni. Accusata dell'omicidio del figlio appena nato, il GUP ordina la perizia. È ancora il caso della mamma che quest'estate ha abbandonato il proprio figlioletto appena partorito in un parcheggio di supermercato dove poi ovviamente è stato ritrovato morto. Vi leggiamo anche questo fatto, ipovedente picchia e mette in fuga i ladri, pensionata rapinata. Gabriele Scorsolini, atleta con problemi di vista, è riuscita a far fuggire i malviventi che gli erano entrati in casa. E allora, bravissimo. Ci fermiamo per pochi momenti, poi ovviamente parleremo di sport e analizzeremo anche il medio.